Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come associare così un dispositivo audio bluetooth su pc ovviamente qualsiasi anche dispositivo che potete connettere senza nessun problema come cuffie audio, tastiera, mouse e altre periferiche quindi andiamo un attimo a scrivere sulla barra della ricerca impostazioni dei dispositivi bluetooth e di altro tipo assicurati di tenere almeno una chiavetta bluetooth oppure nella tua scheda di rete, devi anche controllare se la tua scheda di rete non solo ha il wifi ma anche il bluetooth quindi se non ce l'hai puoi sempre comprarti una chiavetta bluetooth e collegarla come la tengo io, una chiavetta bluetooth che sta tra i 4-5 euro e funziona benissimo impostazioni dei dispositivi bluetooth, facciamo direttamente aggiungi dispositivo, vado così a prendere le mie cuffie bluetooth, faccio aggiungi dispositivo qua su bluetooth ed eccolo qua, queste qua sono le mie cuffiette bluetooth, ci clicco sopra, connessione in corso, fatto le mie cuffie bluetooth ora sono connesse, audio connesso, microfono connesso quindi ora quello che ti resta da fare, se hai connesso così il tuo dispositivo audio bluetooth al pc però c'è un triangolino giallo quindi non funziona, non è possibile sempre risolvere il problema su gestione dispositivi, tasto destro su questo logo start ed eccolo qua bluetooth, vai così a prendere le tue cuffie bluetooth, eccole qua, queste sono mie se c'è un triangolino giallo qua, tasto destro sopra, fai aggiornare driver, cerchi driver nel computer e scegli da un elenco di driver disponibili metto questo e faccio avanti se non dovesse funzionare, tasto destro sopra, disabilita dispositivo e fai abilita dispositivo se non dovesse proprio funzionare è possibile sempre disinstallare il dispositivo ritornare così sulle impostazioni bluetooth quindi rimuovere il dispositivo su quelle impostazioni e poi riconnetterlo e aggiornare il driver quindi se questo video ti è stato utilissimo su come associare così un dispositivo audio bluetooth su windows 10 o windows 11 e se in questo caso esce anche il triangolino giallo che non funziona è possibile sempre aggiornarlo e mi raccomando aggiornate anche i driver su la verifica disponibilità aggiornamenti che sarebbe il windows update verifica disponibilità aggiornamenti per aggiornare sempre i driver sul tuo sistema operativo quindi grazie a tutti per questa visione iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao